Ben trovati dal TG della mobilità, cinema, cultura e moda a Via Veneto. Dalle 22 di venerdì la strada sarà chiusa al traffico tra Porta Pinciana e Via Boncompagni. Nen entrambi i sensi di marcia saranno deviate 10 linee di bus. La chiusura continuerà fino a venerdì prossimo perché nel corso della settimana sono in programma diversi eventi, il primo dei quali domenica sera con la proiezione di vacanze romane in versione restaurata. Cantiere per lavori di manutenzione stradale dalle 7 alle 17 di domani, piazza Manfredo Fanti verrà chiusa al traffico tra Via Filippo Turati e Via Principe Amedeo, deviata la linea 71.